Una partita che ha dato gioia a Taranto, alla sua provincia, ai pugliesi, all'intero sud, perché questa è una squadra, una società delle persone che sono umili, semplici e sono amate per questo da tutti. Siamo contenti di aver vinto, questo ci aiuterà ad affrontare con più calma le altre partite. Dobbiamo ringraziare non soltanto i giocatori che sono i protagonisti, dobbiamo ringraziare chi dietro le quinte, come te, come Elisabetta Zelatore, come Vito Primavera, come Di Pinto, fanno sacrifici per dare sorrisi alle famiglie, ai ragazzi, ai giovani. Siamo qui anche con Michele Mazzariello, consigliere comunale di Taranto. Una bellissima vetrina questa sera per Taranto, una bellissima vittoria per la città. Sì, sì, oggi io sono felice che l'amico avvocato Buongiovanni, presidente del Taranto, quindi della Gioella Prisma, oggi ci ha dato una soddisfazione vincere una partita importante, fondamentale per la salvezza e importante per la città di Taranto. E credo che lo sport è tutto per la città di Taranto. Grazie consigliere. Eravamo anche in diretta Rai, sport, come già altre volte. Questo significa lo sport, tutto lo sport. Il volley che in Superlega in particolare aiuta la nostra meravigliosa città, capitale della Magna Grecia, ad essere una delle prime in Italia ed in Europa. Tre punti importantissimi comunque in ottica salvezza che fanno ben sperare, ben respirare. Ecco, ha visto? Questo è un nostro atleta che è più contento di noi, l'altro poco si fa per dire. Noi non dormiamo la notte. E comunque noi come amministrazione comunale ringraziamo loro che stanno facendo uno sforzo notevole per mantenere una squadra in Serie A1. Oggi è molto difficile, quindi noi li ringraziamo di vero cuore e speriamo che per i giochi del Mediterraneo la Gioia della Prisma continui a darci soddisfazioni perché Taranto la merita. Eravamo in credito con la fortuna e stasera ci ha aiutato. Questa sera non abbiamo incominciato bene, anzi, tutt'altro. Non era facile perdere, diciamo, teoricamente il nostro attaccante, lo posso sapere che ruolo è, però poi abbiamo giocato con un'intensità notevolissima dalla prima palla all'ultima e quindi questa è la cosa più bella, la reazione più bella dopo tante grandi partite con un pizzo di sfighe è quasi inconcludente in un certo senso, ma noi non siamo mai stati inconcludenti perché l'avversario ha sempre fatto qualcosa per darci fastidio. Questa sera si è visto un ritmo altissimo, ma soprattutto molta aggressione al servizio, soprattutto nel primo parziale. Nel primo parziale abbiamo battuto molto bene e nel modo giusto perché conto di loro bisogna saper battere in un certo modo. Il secondo no, però devo dire, voglio fare i complimenti a Falaschi questa sera, a tutta la squadra, ma lui nel primo set è stato strepitoso perché dovevamo giocare con mezza rete e lui è stato molto bravo diciamo fin quando poi è rientrato in partita Ampus il nostro giovane. E quindi, però lì è stato veramente, veramente bravo, non ha perso di vista la strategia di gioco ed è stato lucido come non mai. Siete riusciti anche a contenere tantissimo, comunque lo posso, con degli ottimi muri? Sì, abbiamo lavorato bene. Questa è una gente che ha Keita, Sapokov e Mosic, tre best players, no? Qui non è facile giocare contro di loro, però eravamo lucidi, preparati, lo si è visto in campo, poi è chiaro come in tutte le cose ci vuole anche un pizzo di fortuna e oggi era tutto dalla nostra parte. Ecco, adesso una bella iniezione di fiducia per prepararsi poi alla prossima partita contro Padova, un'altra battaglia da preparare al meglio. E purtroppo la fiducia casca male qui perché è una cosa buonissima, abbiamo fatti tre punti poi in queste condizioni. Quello sicuramente è una cosa molto bella. Poi casca male perché chiaramente io qua, sia il manager che il tecnico, non so con chi incavolarmi adesso perché dobbiamo risolvere un grande problema. Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra molto fisica e abbiamo fatto delle scelte in attacco giuste, quindi ci hanno permesso anche di recuperare qualche break e siamo stati bravi tutti a giocare bene. Ecco, dopo un inizio piuttosto zuppicante siete riusciti a raddrizzare la partita anche aumentando l'intensità nel servizio. Sì, loro sono partiti bene in battuta, ce lo aspettavamo e poi siamo stati assolutamente bravi a recuperare il primo set. Appunto anche bravo extra ad entrare, a darci una mano, è entrato subito in partita e quindi noi siamo riusciti a comunque continuare il nostro gioco. Ecco, a differenza delle ultime uscite, diciamo, voi siete riusciti questa sera a chiudere, diciamo, da tre punti, quindi a chiudere la partita senza avvicinamenti pericolosi. Cosa è scattato in quel momento sul finale? Ma, di avvicinamenti comunque sono stati tutti i set tirati. Siamo stati bravi a stare lì con la testa perché Verona è una squadra, come ho detto, molto fisica, molto importante e sicuramente non mollava ma siamo stati bravi noi anche nei momenti difficili, ce ne sono stati, ma appunto insieme se ne siamo usciti con dei colpi giusti e così. Questa sera MVP, ti senti in forma in questo momento? Guarda, sono contento di aver fatto una buona gara e niente, comunque la stagione è ancora tutta in salita, è difficile, ci sono tante partite, quindi adesso facciamo questi paio di giorni di riposo e dopo ci rimettiamo al lavoro, come sempre.